Previsioni meteo per giovedì 20 agosto Al nord, tempo soleggiato, salvo locali fenomeni nel pomeriggio, sul medio-alto triveneto e dorsale settentrionale Al centro, bel tempo prevalente seppur con locali fenomeni diurni in appennino in locale sconfinamento sul medio adriatico Al sud, prevalenza di bel tempo, anche se con fenomeni in sviluppo diurno sull'appennino e localmente su coste campane e salento Venti, deboli o moderati Mari, poco mossi Temperature, stabili o in lieve flessione